E' conclusa con la vittoria di Maurizio Diomete con l'arrivo a San Potito-Sannitti con la quinta edizione del Rally del Matese, quest'anno anche tappa di Coppa Italia Rally 2017, numerosi anche gli incidenti, per fortuna non gravi, molte le persone e i mezzi impiegati che hanno permesso lo svolgimento dell'atteso evento in estrema sicurezza. 110 commissari di percorso, 50 i cronometristi, 9 le ambulanze, 9 i carroattrezzi, per non parlare poi dello straordinario lavoro che hanno svolto i radiomatori su un circuito di oltre 375 km in pieno parco del Matese.